Marta Bastianelli, oggi c'è stata la presentazione ufficiale del campionato italiano femminile che si correrà a Guardia Vomano il prossimo 28 luglio. Noi con le telecamere di strade d'Abruzzo lo abbiamo ripreso, un piccolo antipasto, in un minuto raccontaci che circuito è. Allora, sarà un circuito di 17 km, prevederà una salita di 1,4 km, negli ultimi due giri però faremo uno strappo di 300 metri circa, con una pendenza media dell'11% e punta al 16%. Questa salita scollinerà sulla solita salita che facciamo ad ogni giro e quindi si aggiungerà a questo strappo circa un chilometro dallo scollinamento e quindi da 3,5 km dall'arrivo. Sarà secondo me un circuito molto impegnativo visto anche comunque la temperatura e diciamo il 28 luglio credo e spero che ci sia una bellissima giornata. Mi auguro che possa essere una manifestazione piacevole per tutti. Ti presenterai come la vincitrice del Giro delle Fiandre in maglia di campionessa europea, quindi da favorita numero uno. Intanto mi presenterò come Marta Bastianelli del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre e credo e spero di onorare nel migliore dei modi questa giornata, ringraziando ovviamente la famiglia De Patre, la Ferrometra e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto per questa bellissima manifestazione. L'ultima Marta, Yorkshire e Giappone. Se ti dico queste due cose cosa ti viene in mente? Intanto io ti dico che dovrò sistemarmi un po' il ginocchio e spero di potercela fare. Va bene, Mondiale e Olimpiadi non ne vuoi parlare. Diciamo che lo Yorkshire sarà un mio grande punto di riferimento quest'anno e un grandissimo sogno nel cassetto l'Olimpiadi che spero di aprire presto.